Essere ammalati di Covid-19 e ricoverati in ospedale durante questi giorni difficili significa essere soli. Non sono consentite visite dei parenti né contatti. Le giornate sono interminabili. Per questo l'avvocato salernitano Michele Sarno, presidente emerito della Camera Penale di Salerno, ha donato all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno 5 tablet. In questo modo, riprendendo l'hashtag Io sto con chi non può, l'obiettivo è quello di riuscire a mantenere un collegamento con i familiari. Ma credo che sia, qualcuno direbbe, il minimo che si possa fare in questo periodo. Perché troppo spesso siamo abituati, nella nostra realtà, a commuoverci, a versare lacrime. Però queste lacrime sono come se ci emendassero da qualsiasi cosa. E non poniamo in essere dei comportamenti sostanziali. Stiamo parlando di tutte queste persone che sono in prima linea. Parliamo di questi eroi che stanno facendo grandi sacrifici. Parliamo dei malati che si vedono distanti dai propri cari, in un momento di difficoltà, isolati rispetto ai propri cari. Il minimo, in questo momento storico, era quello di donare uno strumento attraverso il quale fargli sentire una vicinanza maggiore. Credo di non aver fatto niente di straordinario. Mi auguro che sia un modo per creare un po' di sollievo, per dare un contributo. Lo dicevo ad altri amici che mi hanno chiesto una battuta su questa cosa. E io dicevo, vedete, se in un momento storico come questo, di così grande difficoltà, non esce fuori la nostra reale umanità, veramente il nostro altruismo, veramente non abbiamo capito niente. Buona Pasqua e auguri a tutti.